Ah raga, prima che cominci il video, volevo un attimo dirvi che ci dispiace che l'episodio precedente abbia avuto problemi sotto il profilo di lag, che ha laggato una cifra, ma mentre giocavamo non ce ne siamo accorti, cioè me ne sono accorto dopo quando ho iniziato a editare il video, perciò ho chiesto a Frax di passarmi la sua visuale, almeno non lagga, e quindi dai prossimi episodi in poi vedrete la visuale di Frax con la nostra facecam. Ci dispiace ancora, spero capiate, ma il computer è una merda, e non ho i soldi ancora per farmi uno nuovo, me lo farò a breve. Ciao! Bella vecchi trapani, siamo qui con il terzo episodio di Minecraft, e noi ci siamo tutti, eccoci, dobbiamo fare scale. Le sto facendo io, vado a fare le scale, mi scalinizzo. C'è un sacco, comunque di regno ce n'abbiamo tanto eh. Sì sì no, infatti ho fatto pure un sacco di fregnetti, ah ma qua è morto qua. Sono morto io. Ah sei morto te? Non più a cazzo, non più a cazzo. Vabbè ti ho fottuto la roba, addio. Vabbè mori. Allora, qualche buon Cristo che va a togliere il legno in alto? Tipo Xenic? Eh? No, io sto a fare la terra. Oh porca puttana, qua, qua. Ma che facciamo, lasciamo sto cartello www, in memoria dei vecchi tempi? No, lasciamo. Metti www. Metti www. Metti www. Scale, 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 faggi. Oh, trovate la lava! Fermi tutti. Svolta. Chi c'ha il secchio però? Eh, ce l'ho io, ce l'ho con l'acqua qua, te lo porto. Svolta qua. Lo sai che vuol dire se c'è la lava, vuol dire che siamo vicini ai diamanti anche, probabile. Buono, eccomi, eccomi, sto arrivando. Leve te. Poi prendi te? Sì, si, la pio io. Oh, vedi. Eh, ma, oh porca puttana sta proprio alla fine di sto cosa. Eh, la prendiamo e la tappiamo adesso. Eh, l'acqua tu cazzo la metto però. Eh. Eh, fammi un buchetto che io non c'ho niente, non c'ho il piccone. Ah no, ce l'ho, ce l'ho uno. No, no, scusami, oddio. Oddio, ma che me stai a bruciare? Eh, per sbaglio. Oh porca puttana. Giuro. Aspetta, sali che è meglio, sali. Non è per sbaglio. Oh, aspetta, fermati, non mi piace, ecco. Oh, ferro. Eh, fai un buchetto per mentre c'è l'acqua, capito? Aspetta, fammi per ferro e poi faccio il buco. Guarda quanto ferro. Ottimo. Vedi? Le cose migliori si trovano per caso. Vado qua, eh. Ok. Prova a rifare il generatore di Gobleston adesso. Eh, non me la fa prendere la lava. Ecco, l'ho presa. Ok. Ho presa, ho presa la lava. Sto arrivando, Mateusz. Che cazzo vado a me? Facciamo il generatore di Gobleston, lo sai fare, vero? Sì. Ancora sei rompendo la... Guarda, ti vedo che rompi la terra, sali. Salgo due. Eh, non ci abbiamo più sabba sull'isola. Sabba. Sabba. Perché mi sento doppio, quindi non so che cazzo di... Non ci abbiamo più sabba. Che mogo. Allora, aspetta. Basta pensare alla sabba. Ho pensato che lui che si sente doppio fa, non ci abbiamo più sabba. Vabbè, lo faccio qua sti cazzi, levo l'erba. Basta! Che cazzo vuoi? Lo sono presa la ritarella. Levo l'erba, va bene? Vai, sì. Levo l'erba. Levo l'erba. Mi dai la sabbia. Mi serve la sabbia. Oh, ho capito, Marco Duh. Ah, non c'è la sabbia! Oh, io espando un po' l'isola con la terra, che dite? Vai. Mi serve la sabbia? Ce l'hai te, Fra? Sì. Fia sta sabbia qua, cazzo! Fia questa! Che ti fa? Per fare il generatore di Cobblestone. Eccola. Fa pure la terra, comunque. Eh, no. Se può fa? Sì. Allora, dammi il secchio della lava. Vabbè, sti cazzi. Ma, scusa, ma io non c'ho più il secchio della lava. Ah, ma come non c'è più? No, l'ho dato il secchio della lava. A chi? A chi io? A me no. Ma ce l'avevo la lava? Non ce l'ho più. Non c'ho più la lava. Non c'è più la lava. Non c'è più la lava. Ma ce n'è altra sotto, vero, da? Non c'è più la lava. Sì, però toccare riprendere. Il secchio ce l'hai? Sì, sì, ce l'ho. Ce l'ho io. No, ma... Che cazzo di volo. Non c'è possibile. Non prende il secchio. Ma dove è finita la roba? Eccola. Ho preso tutto. Ah, ce l'hai solo il secchio. Sì, ciao. Io sto ancora aspettando che tu faccia qualche provata, eh. Ma che cazzo vuoi? Ma come che cazzo? Mamma mia. Ci stai a piccare il mondo, cazzo. Ma sta zitto. Se n'era per me le scale che io facevo. Va baffanculo. Ok, non c'è più... Oh, calcola, ve lo dico subito. Non c'è più lava, eh. Quindi vedete che... Non c'è più vino. Vedi che cazzo devi fare, ma te, capito? Sì, Nick, ti sto guardando line. Ti piace? No. Vabbè, io lo faccio qua. Dove? No, non lo fa nella terra! Eh, per forza! Lo cazzo lo faccio. Ti faccio io lo spazio. Aspetta, prima fammi, fammi lo sanzicchiello della lava e... Fallo de te, fallo de roccia. Eh, lo faccio de roccia, infatti, no? Lo fai dietro la cesta qua, sti cazzi. Comunque la cesta potremmo pure spostarla dall'avolente. Ok, così dovrebbe bastare. E basta così. Uno, due, due. Eh? Comunque... Eh, me ne serve un altro qua. Alla fine? Sì. Così? Anche sotto. Anche sotto? Sì. Magari non sotto l'acqua. Magari non sotto l'acqua? Non sotto l'acqua te, ok. Ok, fatto. Non hai il piccone, vero? No! Ti è, ti è, ti è. Che mongoloide. Aspetta, vogliamo... Osserviamo tutti quanti come lo farà, aspetta. Sì, perché... Voglio mettere qua, voglio vedere bene cosa fa. Sono troppo curioso, pure io. Regà, sapete cosa dobbiamo fare? Non lo so, però se me lo dici lo so. Dovremmo creare un punto oscuro dove spawnano i mob. Eh? Così possiamo prendere tipo... Se spawnano i ranni, possiamo prendergli le cose e fare la lana. Possiamo anche farlo tipo The Gob. Guarda, facciamo così. Regà, lo faccio io. Ok, ho fatto... Oddio! Eh, non posso risali qua, porca pottana! Ok. Lo stai facendo? Sì. No, ma te, ma te, no. Vedi, è scomparso un coso di lava. Eh, infatti è quello il problema. Non riesco a capire quale motivo. Non dovrebbe far così. Porca pottana! Baffan... No, ti sei perso tutta la roba, amore. Aspetta, il secchiello, dov'è? C'è un cazzo. Il secchio. Ce ne stanno altro dentro la cesta. Porca pottana! Vabbè che tanto adesso li possiamo rifare, perché il ferro ce l'abbiamo. Non riesco più a trovarlo, vabbè, ma sti cazzo. Porca pottana, va te. Sì, ma non capisco perché sparisce il coso di lava. Porca, è troppo bello, da qua sei scomparso. Sei cascato e sei morto. È notte. Sangue, acido muriatico. Questo che sta a fa... Guarda... Sto guardandolo. Ah, ma te, guarda... Eh, fra... Eh, che sta su un albero! Che guarda... Guardalo. Non posso spare il generatore di... Non so come si fa il generatore di composto. Cosa sta facendo? Guarda come sta. Eh, non lo so, porco tu, me lo spieghi. Riesci a spiegare. Sta tipo cadessa in giù. Come per dire, no, basta, ci rinuncio. Oh, sono spawnati i zombie, fermo. No, vabbè, regà. Sono spawnati... Regà, calcola, sono... Pure i creeper hanno spawnato là, calcola. Regà, sono il primo dei coglioni, calcola. Sono troppo idiota. Ok. Cioè, vedete questa cosa che ho fatto qua sopra? Di pietra? Cioè, uno zombie... Regà, sta arrivando zombie con la cosa, con la spada. Ah, calcola. Regà, mi sapevo che mi devo buttà. E muoio. Perché? Eh, spero, mi devo buttà. Ok, non sono morto. E... C'è bisogno di aiuto. Vai, vado io. Mori, muori. Grande. Oh, guarda, tutto il mio legno ho buttato. Eh, per quello stavo cercando di mettere una porta. Vabbè. Ah, vedi che spettacolo. Oh, porca puttana. Ole! Vai. Che hai fatta? Sì, mi faccio un piccone. Oh, mortacci sua. Eh, guarda, che stronzo. Tanto qua io posso morire, perdo solo una spada. Oh, oh, mi ha ammazzato. Mi ha ammazzato. Oh, no, dai, calcola, adesso è un macello, perché tu spawni sott'acqua, però l'isola intanto l'hai ampliata, quindi non puoi salire. Non c'ho le piume, non c'ho le frecce per tirare l'arco, vaffanculo. Cos'è che non posso salire? Oddio, ste alghe di merda. Le leviamo? Sì. Ti prego. No. Leviamo di Pac-Man e merda. Oh, è cresciuto un altro cactus. No, ce l'hai piantato te. Non ho pensato il mio lavoro. Eh, mi dai un po' di pietra? Non ce l'hai più, eh? Non mi dico che non ce l'hai pietra, ti spacco la testa. No, ce l'ho, ce l'ho. E fatela. Ah, è vero. Ma funziona, quindi? Sì. Guardalo come lavora, guardalo. Eh, dammi tre di pietra. Mi dai tre di pietra, porco? Eccola. Oh, ma vedi qua dietro? Ma io sto là dietro quanti arcieri ci stanno. Davvero? Non hai capito? Cioè, dietro sta casetta ci stanno tipo sei arcieri. Eh, ma noi ci servono i ranni. Perché non ci stanno i ranni? Ma scappa, porco due. Stanno tutti là dietro. Guarda sto coglione che continua. Io mi sto rendendo utile. Almeno sai che abbiamo trovato una cosa da fare dove non fa danni. Sì, sì. Guarda, ora sfascio tutta. No. Vedi un po'. No, ho fatto una cazzata, regà. L'ho spaccato uno sotto. No, no. No, porca troia. Oddio, no, regà. Guarda quanti so. Mi stanno facendo le frecce. Porca puttana. L'hai fatto troia. No, no, guarda dentro. Guarda, arrivano le frecce fino a qua. Arrivano. Eh, dovremmo fare mura allora. Ma te sei matto, da. Della nostra cosa. Ma guarda quanti so. Non è normale. Porca puttana. Ma perché sull'erba, Josefa? Ma sei deficiente. Eh, ho capito. È un attimo emergenza. Un attimo emergenza. E vabbè ragazzi. Mentre noi cerchiamo di coprirci. Finiamo il terzo episodio di questa serie. E vi do appuntamento per il prossimo episodio sul canale di Frax. Dove ci sarà il quarto. Esatto. E intanto avete comunque il link qua sotto. E ci saranno le annotazioni. Quindi non vi perderete. State tranquilli. E niente. Ci ubriamo al prossimo episodio. Bella. Bella ragazzi. Froci. Procco. Ciao.